Aspetta, non è ancora iniziato, ora è iniziato Ciao Vlog randomissimo Randomissimo, alle 2.30 di notte 2.39 2.29 Ok, scusami Sei un po' assonnata No, non sono assonnata, ho solo visto male L'orologio lontanissimo da me Allora, tutti ci chiedono Ma in macchia è davvero? Ma io stavo dicendo, ma in che davvero? In macchia è davvero Sono stati reputati da Youtube come video Assurdi, assurdamente da mettere Con restrizioni, nel senso che Spiega, scusate Adpocalypse, penso che avate sentito già qualcosa Qualcosa avete sentito, che Youtube si è inventato Scusate il dito Ah sì, molti non sanno che tu hai un dito rotto Domenica c'era live Quindi, sapranno Youtube ha cambiato un po' le regole Un bel po' Per vari fatti che non vi spieghiamo È lunga, guardate il video di quei due sul server Sì Guardatelo Vi diciamo che comunque alcune parure Alcune foto In pratica dovremmo stare così Sì, per me Stando così non verremmo messi in pratica nella modalità No Cioè verremmo, usciremmo dalla modalità restrizione Stavo dicendo verremmo usciti Anche questa frase vorrebbe Però faremo tantissimi altri video insieme Raccontala tutti i video che abbiamo in programma Molti, ma molti video La Kiss Challenge Eh sì Che verrà fatta Quella non la voglio fare La vendetta su di me Mi devo vendicare Anche la Rischia il Gusto Rischia il Gusto Challenge Per vedere i nostri video Ci vuole coraggio E abbiate disagio Faremo questi video Salve a tutti Ciao Non so come continuere questo vlog Ma ho deciso di fare un vlog così estemporaneo È partito È partito random È partito random Spero che apprezzate la genuinità Massima genuinità delle 2.34 di notte Pachi ci tornava a farvi vedere la sua nuova cover Pachi vi ricordate la bilancia Quella che ho fatto vedere nello scorso vlog Lui era fissato con la bilancia Adesso lui è fissato con questa nuova cover Ma lo so fissato E uno si fissa No per lui è fantastica Però secondo me è una bella cover Sì Elegante Grigia Gommosa Gommosa Volevo dirti che hai lo stecco Ce l'ha anche Issima 91 Oh wow In abbonamento Sì Bello averlo insieme Sì Fantastico Possiamo capirci Niente questa è la sua nuova cover Comunque questa non è una collaborazione Ve lo vorremmo vedere No no questa è pubblicità gratuita Esatto Come è Non so cosa Voi hai del tuo Amazon Hai presa Sì C'ha lo specchio Lo blocco Da qui esce la mela Più bello del tuo Il mio è normalissimo Adesso non posso inquadrarlo Perché ci sto registrando Quindi È tutto glitterato Ci ho anche attaccato Gli stichai Giuggino qui Che vedete qui sopra Ma non ci sta riuscendo Sto col cellulare Attaccalo Sto molto molto Molte grazie Che cos'è? Rikki 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 Ma smessi? Ma che per fatti che dice Rikki random E' tornata E chiede di te Con un like Con un like Rikki Ma possiamo vedere sempre qui su questo canale Disaggiatissimo Saluta E tu lo saluta Tre dita Ciao Ciao Ciao!